Non passa settimana, maggiormente durante la bella stagione, che non ci pervengano in redazione segnalazioni sul degrado della Sassonia. La riqualificazione di questo polmone turistico della città è stato oggetto da più parti, anche dalla recente campagna elettorale e anche in quella precedente, dove in diversi hanno sciorinato la loro ricetta magica per far sì che questo luogo rinasca dalle sue ceneri e diventi, come in altre città turistiche è stato fatto, il salotto dello struscio e del vivere vacanziero. La vocazione ce l'ha, qui in poco meno di un chilometro c'è l'infilata degli alberghi, ci sono ristoranti e localini dove intrattenersi e c'è anche un bel passeggio. Ci sarebbe lo spazio per una bella passeggiata larga e accogliente fino alla zona degli ex go-kart. Vediamo se questa amministrazione avrà la volontà e troverà le risorse necessarie come prospettato per riqualificare questo luogo. Per intanto sogniamo ad occhi aperti. Aperti sì ma non troppo perché aprendoli del tutto e ascoltando anche le segnalazioni ci accorgiamo del triste ricordo che i turisti invece si portano a casa. Via Le Ruggeri le scogliere funzionano, nulla da dire. Lo stato della banchina però tra l'arenile e la strada non rappresenta il meglio del meglio, anzi ampi punti sbrecciati, asfaltatura irregolare e in alcuni punti anche cadente e i pedoni che non sanno bene dove passeggiare o camminare in sicurezza. Proprio qui di recente si è verificato un incidente stradale che ha visto protagonista una turista finita all'ospedale perché è urtata da un SUV di passaggio. Il guardrail poi vicino allo scolmatore, solo a guardarlo fa venire il tetano e dove alcune transenne sono state legate non si sa bene perché la ciliegina sulla torta è la passeggiata dell'Isippo. Una sfilza di pali piantati nella banchina e scollegati tra loro, la cui utilità sfugge alle nostre menti, ci conduce in una bella passeggiata ma che mostra già punti critici. Oltre alle quattro terrazze sul mare, cemento sfaldato con tondini arrugginiti in bella vista e come segnalatoci da più parti, una brutta ringhiera arrugginita e spezzata nel mezzo ed in un punto senza protezione che è una vera minaccia. Finirci sopra e tagliarsi per un bambino o per un adulto è più facile che prendere l'acqua dal frigo. Ultima ma non ultima considerazione, l'assenza totale di cestini porta rifiuti lungo tutta la passeggiata, unico esemplare all'ingresso del camminamento, poi nulla fino al molo. E fazzoletti, lattine, cannucce, coni gelato, tetrapacche di succhi di frutta eccetera eccetera che fine fanno? Al di là della murata in cemento gli scogli ne sono ovviamente pieni. Bene, in molti ora si chiedono, in attesa del nostro futuristico skyline, questi piccoli ma sostanziali interventi, chi di competenza li può fare? Ai posteri, l'ardua sentenza.